Vedete il cielo di Roma che si è rischiarato dopo un violento acquazzone in mattinata, acquazzone che ha reso molto pesante il terreno di gioco. Vedete intanto che il regista De Pasquale con la grafica dell'Olivetti ci mette in onda la situazione nel gruppo 3, gruppo 3 nel quale sono inserite oltre a Italia e Unione Sovietica anche Ungheria, Norvegia e Cipro. Finora l'Italia ha giocato una partita e ha pareggiato in Ungheria. Ma ascoltiamo l'inno nazionale sovietico. Grazie a tutti.